L'educazione e la legalità non è solo uno spot, ma allora cos'è questa manifestazione? Diciamo che ormai sono 16 anni che andiamo avanti con il progetto Legalità con un forte entusiasmo da parte sia delle istituzioni e da parte dei giovani. Anche quest'anno dobbiamo ringraziare la BCC di Buccino e Comuni Cilentani che ha voluto rinnovare fortemente il nostro progetto con legalità in corto, quindi realizzazione di cortometraggi. Ecco perché non è solo uno spot, perché diamo l'input ai ragazzi nell'essere attori protagonisti allo stesso tempo di tematiche affrontate nell'anno molto importanti. Noi abbiamo realizzato corti sulle dipendenze, quindi tossicodipendenza, alcolismo, gioco d'azzardo. Abbiamo realizzato corti sulla criminalità informatica. L'ultimo che abbiamo realizzato è proprio sul problema ambientale. Quindi sono tutte tematiche attuali dove i nostri giovani, i nostri adolescenti hanno manifestato questo notevole entusiasmo. La manifestazione finale è sempre un momento che culmina, insomma, in questa manifestazione che però ha una durata ben più lunga di lavoro proprio nelle scuole e tra le classi. Quest'anno ci sarà anche una testimonial d'eccezione. Parliamo un po' di lei, Giulia Luzzi. La nostra testimonial, oltre che un momento di festa, quindi il 17 maggio, diciamo, è un po' un punto di incontro con tutte le scuole, con rappresentanze di giovani delle scuole, dove noi abbiamo portato il progetto e dove noi abbiamo realizzato il cortometraggio. La nostra madrina è una cantante giovanissima. Io l'ho voluta perché lei riesce ad interagire fortemente con i nostri ragazzi. Teniamo presente che lei ha anche testimoni alla nazionale contro il bullismo, quindi ha incontrato già altri giovani in tutta Italia, ha fatto delle cose con i giovani perché è impegnata tantissimo anche nel sociale. Per noi oramai è un appuntamento fisso e non per consuetudine, ma perché crediamo fortemente in questo progetto, crediamo nel messaggio che viene dato ai ragazzi e soprattutto siamo consapevoli che soltanto attraverso una sinergia tra, in questo caso, scuole, tra le istituzioni, la banca, il territorio, grazie soprattutto all'iniziativa del giudice Lamonaca, si riesce a concretizzare e a dare un messaggio molto forte ai ragazzi che non sia soltanto il solito messaggio volto a vietare qualcosa oppure a far capire che c'è qualcosa di sbagliato, ma in questo caso si è fatto un ulteriore passo in avanti. Già le prime edizioni aprivano un confronto con i ragazzi con delle esperienze anche molto forti. Oggi invece l'ulteriore passo del cortometraggio, quindi sono protagonisti, è un modo per arrivare all'informazione che è sicuramente molto più capace di entrare nella mente dei ragazzi e far capire anche attraverso qualcosa di concreto che mette loro al centro dell'attenzione, che ci sono dei comportamenti che non sono soltanto quelli più evidenti, ma il concetto di legalità, come abbiamo più volte detto, è un modo di concepire la vita e soprattutto di rispetto del prossimo, dell'ambiente, qualcosa di universale che non può essere limitato soltanto a concetti alti di legalità. Penso che lo scopo di una banca locale sia anche quello di elevare e soprattutto di far crescere le proprie comunità e messaggio migliore di far crescere i propri ragazzi, le proprie nuove generazioni non ci possa essere. Devo dire che il format nel corso degli anni si è rafforzato sempre di più, per giungere poi ad una progettualità che coinvolge direttamente i ragazzi. Noi già abbiamo preso visione di alcuni cortoni tragi, devo dire che è straordinario vedere come l'entusiasmo da parte di questi giovani nel costruire e nell'inventare, perché l'educazione è un concetto molto complesso, chiaramente si parla di materie come la violenza di genere, il cyberbullismo, droga, alcolismo e quant'altro. Quindi l'interpretazione di queste materie molto complesse da parte dei ragazzi fa venire fuori proprio la voglia delle giovani generazioni di dare un contributo attraverso questi corti e noi insieme al giudice vogliamo far sì che questo evento acquisisca nel tempo sempre maggiore importanza per portare poi ad Agropoli un vero e proprio festival che è definito appunto legalità in corto. Da un anno io collaboro con il dottore Lamonaca, facciamo questo progetto e portiamo, personalmente porto la musica ai giovani delle scuole medie di tutta la provincia di Salerno e è stata un'esperienza molto molto bella anche per la formazione personale e anche per approfondire la nostra sensibilità. Io suono musica classica principalmente, però da qualche anno mi sono anche approcciata alla musica moderna, infatti ho suonato con vari artisti, ve ne nomino uno, Renato Zero, quindi musica moderna, attuale e porto questa musica a questi giovani di oggi, una musica non più classica, quindi verso un mondo diverso, quindi attraverso la musica esprimere le proprie emozioni, la propria sensibilità. Grazie.